Sono 92 i nuovi casi di positività al covid registrati oggi in Abruzzo di età compresa tra 3 e 96 anni. Sono stati rilevati attraverso l'esecuzione di 7.495 test, 2.419 molecolari e 5.076 antigenici con un tasso di incidenza dei positivi dell'1,22%. Circa la provenienza 25 sono della provincia dell'Aquila, 14 della provincia di Chieti, 17 della provincia di Pescara, 42 della provincia di Teramo, 2 sono di fuori regione e per un caso sono in corso verifiche sulla provenienza. Il totale dall'inizio dell'emergenza è di 78.424 casi, il dato odierno risulta superiore in quanto sono stati inseriti alcuni casi risalenti ai giorni scorsi. Nelle ultime 24 ore si registrano due nuovi decessi di un'ottantenne della provincia dell'Aquila e di un'ottantaquattenne della provincia di Teramo, così il bilancio complessivo dei pazienti deceduti sale a 2.522. Con i 120 dimessi guariti notificati da quest'ultimo bollettino scende di 21 unità il numero degli attualmente positivi che sono 2.232. Salgono a 68 i pazienti ricoverati in area medica, più 3 rispetto a ieri. Invariato il dato dei degenti in terapia intensiva, 13 con un nuovo ingresso, mentre gli altri 2.151, meno 24 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare. Intanto a livello nazionale oggi il Tar del Lazio con decreto monocratico ha dato l'ok al decreto legge per l'obbligo di Green Pass per chi lavora nelle scuole. Nessuna sospensione cautelare urgente dunque del provvedimento con il quale il 6 agosto scorso è stato previsto che tutto il personale scolastico e universitario dovrà possedere e sarà tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19. Stessa cosa per la disposizione secondo la quale il mancato rispetto di tale obbligo sarà considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro sarà sospeso. Sul fronte vaccini il commissario straordinario Figliuolo ha ribadito che l'obiettivo dichiarato a marzo di vaccinare l'80% della popolazione over 12 sarà pienamente completato entro il 30 settembre. Dopo il calo fisiologico dovuto alla pausa estiva delle due settimane a cavallo di ferragosto, da ieri la frequenza delle vaccinazioni ha ripreso a buon ritmo. Raggiunta la percentuale del 67,6% della popolazione over 12 protetta dagli effetti del Covid pari a 36,5 milioni di vaccinati. La percentuale di coloro che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino supera intanto il 72,3% pari a 39 milioni che diventano 41,6 oltre il 77% dell'intera platea se si sommano le dosi uniche e le persone già contagiate. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.